Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Montegnacco, una fazione di Cassacco, siamo qui per la 21esima Marcia dei Fiori all'interno dei festeggiamenti per la relativa Sagra dei Fiori. Le iscrizioni stanno andando bene, fortunatamente è uscito anche il sole che è di buon auspicio. I percorsi sono tre, abbiamo gli 8, i 12 e i 20 chilometri, troverete fonetissimi chioschi durante tutta la marcia. Sicuramente poi durante il percorso vedrete tutte le bellezze del paese e ci vediamo dopo con tutte le varie parti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci sul percorso della Marcia Longa dei Fiori, siamo appunto a Montegnacco. alle mie spalle vedete Villa Gallici Deciani, una villa del XVI secolo che appartiene a una famiglia udinese di stampatori e caratteristica della zona appunto è la presenza di questi bei declivi, il bellissimo giardino e la vista sulla chiesa di San Giusto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci siamo a uno dei ristori della Marcia Longa di oggi. Sì, abbiamo qui con noi un marciatore stanco ma appagato sembra. È vero? Sì, bel percorso, bel giro. Segnalato bene per il momento? Tutto a posto, si capisce benissimo. Eccoci qui con un'altra marciatrice che è già ristorata, tutto bene per il percorso? Benissimo, benissimo, il tempo ha tenuto per fortuna. Perfetto. Che marcia fai? Quanti chilometri fai? Otto oggi. Bene, comunque. E adesso diamo le parole anche alle piccole marciatrici. Ciao. Ciao. Contenta del percorso? Sì. Sei divertita? Sì. Bene, bene, bene. Ok, grazie, sai, buon ristoro. Ciao, ciao. Venga, venga qui, vediamo un attimino. Buongiorno, buongiorno, eccoci in un ristoro all'ombra. Grazie, ben volentieri. Com'è la corsa? Diciamo che è bella, non si può dire assolutamente il contrario, i posti magnifici, anche per noi che abbiamo fatto qualche chilometro in più perché veniamo a Pordenone. Oh, bravissima. E quindi siamo entusiasti di questa corsa qua e anzi ci verremo più spesso da queste parti. Bene, volentieri. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Buongiorno, com'è andata la marcia per il momento? Ma è un bel percorso, veramente. È la prima volta che la faccio e sono veramente contento, bellissimo. Bene, quindi possiamo contare di averla anche l'anno prossimo. Sì, sì, sicuramente, anche per i prossimi anni. Benissimo, buon ristoro allora. L'onca che va... La vita... Siamo giunti al termine per questa edizione della Marcia Longa che ci ha resi contenti per le partecipazioni sicuramente vedremo di farne il nostro meglio anche per l'anno prossimo vi aspettiamo per l'anno prossimo intanto passo la parola a chi vi presenterà la prossima Marcia a Tavagnacco grazie, grazie splendida anche questa manifestazione grazie per averci ospitato sono Claudio per la sesta corsa sulle strade di Ciavai che si svolgerà a Tavagnacco il 20 luglio prossimo è una corsa fra le più belle secondo me perché appartiene a un paesaggio naturalistico che comprende anche dei paesaggi rurali e percorre tutta l'Ippovia abbiamo tre percorsi abbiamo aggiunto quest'anno il quarto sui tre chilometri per le carrozzine dei bambini o per i disabili la marcia viene praticamente percorsa tutto su un terreno rurale che veniva percorso negli anni passati dai borghi e dai cavalli che percorrevano queste strade battute nel paesaggio vicino al Cormor grazie vi aspettiamo il 20 luglio a presto